Come si dice, il bucchina metto le luci elettico, no? No. Vabbè, il bucchino. Sì, sono tanti. C'è il bucchino e 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 il bucchino. Eh sì, anche loro sono consapevoli di questo rischio per cui tendono la luce fioca, 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 fioca e ogni tanto vanno a sbattere la testa. E gli è rivoloso. E per questo che hanno gli occhi strutturi. Questa è Ted pierda spesso. E anche di un bleu e assicurato non c'è la tradizione. Al costrutturo anche buonnessone. Tutta ci costata in bana! Non commodity sono gli occhi! Qua, sono gli occhi, Ogni venissi. Quando ci sono, ciao seventeen.